eccomi qui ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi vi voglio parlare di un paio di temi che mi stanno a cuore il primo è come scelgo le collaborazioni le sponsorizzazioni dei prodotti che vedete sul mio canale e il secondo è visto che è successo a tanti youtuber tanti influencer il fatto del avere i canali social hackerati e qui andremo a vedere nello specifico perché succede ciò e forse anche perché non è ancora successo a me quindi allora primo prima domanda che comunque vi fate anche ogni tanto e quindi tema che vogliamo affrontare allora le collaborazioni ovviamente voi vedete i miei video e ci sono dei prodotti che io mostro a volte tramite recensione a volte l'introduco all'interno di un progetto se riesco preferisco recensire prima il prodotto nel senso che vediamo bene le caratteristiche ve lo presento e poi testarlo a lungo farvelo vedere anche nei video che faccio poi in un futuro e dopo anche magari fare un altro video a distanza di tempo dove vi dico effettivamente se le mie impressioni iniziali sono state appunto quelle veritiere il prodotto sia dimostrato effettivamente valido perché dovete capire che allora a me arrivano diverse proposte tantissime proposte di fare pubblicità a dei prodotti o comunque di poter testare di voler testare dei prodotti degli utensili e via dicendo che possono essere utili soprattutto le fai da te ovviamente trattando io principalmente fai da te ma anche elettronica e high tech e altre cose ne arrivano tante dicevo ma non perché ne arrivino tante vuol dire che io le accetti tutte anzi spesso e volentieri se il prodotto non mi sembra attinente se il prodotto non mi sembra utile per me e quindi nemmeno molto probabilmente per chi mi segue se il prodotto mi sembra scadente non mi sembra affidabile non mi sembra degno di essere recensito testato e presentato io non accetto nemmeno questa questo tipo di proposta perché fondamentalmente io ci metto la faccia in quello che vi faccio vedere sul canale quindi tendo a portarvi cose che quantomeno come prima impressione mi sembrano valide e generalmente è stato quasi sempre così alcune volte ovviamente se ti basi sulle basi di quello che è l'impressione visto su un sito quindi vedi le caratteristiche ok però non hai magari l'utensile sotto mano per provarlo quindi testarlo a dovere ti sembra buono magari ti sembra una cosa comunque che possa andare un rapporto qualità prezzo buono allora accetti lo valuti ma inizialmente si comporta anche bene dopo è anche vero che io tendo a metterli a dura prova gli utensili perché la maggior parte degli utensili che io prendo li uso effettivamente per lavorare cioè io non li tengo in bella mostra come fanno in tanti che si fanno il loro garagino dove ci sono tutti quanti gli utensili appesi in modo scenografico e li spolverano pure male li accendono due volte l'anno li usano per fare un foro cioè io ci lavoro effettivamente quindi le cose che io vi presento e se vi dico magari dopo tre quattro anni o dopo un anno due anni vi dico che è buono è perché realmente buono perché io ci lavoro a tutti gli effetti cioè li sforzo a dismisura tanti addirittura li ho sforzati talmente tanto forse un po troppo a livello hobbistico e hanno ceduto e ho fatto anche dei video dove comunque ho detto sì era buono sì probabilmente per un utilizzo medio poteva andare anche bene per un utilizzo intenso ha ceduto non sono indistruttibili non sono infallibili sono comunque la maggior parte utensili per fascia hobbistica quindi bisogna prenderli come tali e quindi questo è il punto principale cioè le proposte arrivano io cerco di valutarle prima testo i prodotti se in fase di test mia personale il prodotto non mi convince io contatto anche l'azienda che mi dice mi propone e declino l'offerta perché se in fase iniziale di test mia non mi convince voi non andate neanche a vederlo quel prodotto quindi sappiate che se voi vedete un prodotto recensito da me e perché è stato anche approvato da me almeno che io non voglia mettervi in guardia su qualcosa e quindi magari vi faccio anche la recensione negativa perché se un qualcosa è diciamo risaputo che come conosciuto come buono ma io vedo che non è affatto buono mi interessa anche farvi sapere cosa ne penso in merito questa dalla mia esperienza sia in positivo che in negativo ovviamente la maggior parte di quelli che vedete sono in positivo perché se io accetto di fare la recensione perché vale la pena provarlo e vale la pena anche per voi eventualmente acquistarlo e averlo nel vostro parco attrito quindi questa è una delle cose che volevo mettere in chiaro tanti li potete vedere anche qui dietro di me intorno a me ovviamente non parlo solo di attretti posso parlare anche di prodotti di vernici di cose che ho utilizzato per fare anche il cappotto di sopra della tecno stuc oppure utensili della icica o della tecpo per quanto riguarda gli utensili dell'uso comune ma anche altri macchinari prodotti veleca che utilizzo spesso ovviamente la colla vinavil che non ha bisogno di presentazioni ce ne sono talmente tanti che tutti insieme non me li posso ricordare però altre attrezzature punte consumabili oppure norton abrasivi se ve li mostro e perché effettivamente valgono e adesso veniamo al discorso delle truffe e degli hackeraggi dei canali molti miei colleghi sono stati vittima di questo tipo di truffa e di hacker del canale quindi hanno perso anche solo temporaneamente comunque hanno subito anche dei danni da questo punto di vista e ho visto e anche con testimonianze comunque di miei colleghi miei amici che conosco e con cui parlo e conosco anche di persona che hanno canale youtube è successo in merito a delle proposte appunto ricollegandoci alle collaborazioni che gli venivano fatte tramite mail magari li proponevano di pubblicizzare un servizio in questo caso ecco già il fatto di dover pubblicizzare un servizio qui veniamo subito al perché a me non succede una cosa del genere perché io servizi molto difficilmente li prendo anche solo in considerazione se mi arriva una mail dove mi viene proposto di pubblicizzare un servizio a parte il fatto che vi fido sempre da cliccare sul link che mi viene fornito da chi me lo invia ma poi io servizi generalmente non li pubblicizzo perché non è il mio campo posso capire che ci sia qualcuno che tratta specificatamente queste cose quindi possa essere interessato a parlarne per esempio uno che magari tratta solo di informatica o parla di video making e cose del genere allora è normale che possa essere interessato in prima persona e poi anche a farlo conoscere ai propri iscritti quindi questo è un motivo per cui a me sinceramente non capita questo tipo di cosa perché non mi sono arrivate mail sospette ma non essendo il mio campo non essendo mio interesse portarvi a conoscenza di questo tipo di servizi e di prodotti è molto difficile che riescano a farmici cascare poi ovviamente qualcuno cade un pochettino nel nel tranello perché si fa ingolosire anche da questo tipo di proposte o magari a volte anche ovviamente si va anche in buona fede posso capire che uno clicchi sul link ma in fiducia però è anche bisogna stare anche attenti a quello che ci capita in rete perché purtroppo le truffe sono sempre dietro l'angolo a me arrivano giornalmente giornalmente decine e decine di truffe via mail che siano più o meno velate più o meno diciamo comprensibili scopribili parte bene qualcuno ha fatto male ma probabilmente capitano anche a voi a me magari capita un po di più che a voi perché avendo a che fare con con online con il web la percentuale sarà un pochettino più alta quindi negli anni ho imparato anche un pochettino riconoscere il fatto allora quindi principalmente quello lì non non mi capita per quello dopo non escludo che possa capitare anche a me magari adesso sono qui a parlarne oggi domani rispondo a una mail dove clicco sul link dove mi fregano tutto speriamo non capiti sono abbastanza accorto in merito ho i miei sistemi per far sì che non non mi capiti ovviamente sono vicino a chi purtroppo ha subito questo tipo di truffe perché fondamentalmente di quello si trattano hanno avuto delle perdite perché ovviamente anche se si riesce a recuperare il canale si sta nel tempo inattivi si viene segnalati dei video potrebbero essere cancellati a volte ho visto che comunque questi truffatori non cancellano i video esistenti ma li mettono semplicemente privati questo già abbastanza buono però sicuramente hanno avuto un danno e di questo fondamentalmente ne sono dispiaciuto pure io mi auguro che non capiti anche soprattutto a chi conosco a chi seguo e non capiti ovviamente anche a me in prima persona questo anche per dirvi che voi che state guardando questo video fate sempre attenzione alle mail che ricevete anche ai messaggi che ricevete su whatsapp su messenger se il link è sospetto o se una persona generalmente non vi via link per farvi sapere delle cose dubitate prima chiedete informazioni perché anche la persona tanto tante volte non vi via di propria decisione il link può essere anche un virus che lo fa al posto suo e quindi questo poi vi fa andare anche a incorrere in problemi come farvi magari magari riempire il computer di virus sul telefono di virus oppure clonare anche tutti quanti i vostri account con quanto ne potrebbe conseguire anche a livello economico perché se mi fregano anche le password per le credenziali per accedere alle carte di credito e nei conti correnti diciamo che poi dopo comincia a essere abbastanza pesantuccia la cosa quindi fate sempre attenzione perché il mondo di internet è bello tutto quello che volete però anche altrettanto pericoloso a volte più nel mondo reale e quindi niente questo è quanto penso di aver parlato anche tanto se avete qualche domanda fatemela nei commenti sia in merito alle collaborazioni che in merito alle truffe online e gli hackeraggi io come sempre vi saluto vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti mettere mi piace condividere il video e scusatevi per questo video un po' diverso dal solito ci vediamo a breve con un altro video sul fai da te e a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi appunto buon fai da te a tutti